Questo graffiti sono due persone che si baciano, vero? Sicuramente, se vedete qualcos'altro, probabilmente siete, come dire, dei porcellini, diciamola così. E quindi, benvenuti ad un altro episodio di Drug Dealer Simulator, signore e signori. Speriamo che vada tutto bene anche oggi, perché le cose non suonate tante, cioè suonate bene, ma abbastanza bene, potrebbe andare ancora meglio. E qua, teoricamente, questa è una farmacia, anche se non c'è scritto né niente, nessun cartello. Entriamo, come la porta è chiusa a chiave? Signorina, mi apre la porta? Ma che cacchio? Ma che cacchio? Ancora mi apre, madonnina santa, non mi apro una porta alla farmacia. Che devo fare io? Devo assolutamente sfondargiela, questa è una buona idea. Ma c'è una poltrona per cui credo che mi siederò qua e mi guarderò comodo questo nuovo episodio di Drug Dealer Simulator. Il mercato sta esplodendo, signori e signori. Benvenuti ancora una volta. Guardate qua, mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti vogliono la potenza del senza nome. È amazing. E noi andiamo un ciccio in piano. Andiamo un ciccio in piano perché alcuni sono in Città Vecchia Est, Ovest, inciuccianati, incasinati e via dicendo. Noi vogliamo vedere come siamo messi. Allora, Città Vecchia Est non abbiamo tanto rispetto e quindi Sbirrogne e Baracopoli neanche. Dobbiamo prima dare un po' di precedenza. Città Vecchia Est. Ok. Pasticche, pasticche, tutti vogliamo pasticche. Nel frattempo facciamo un ordine da Eddie perché le cose si stanno mettendo male e quindi abbiamo bisogno ovviamente di Anfe. Almeno 30 grammi. Almeno, sì, sicuro. Anzi, facciamo anche 40 già che ci siamo, che ci da due bustine intere. Bene così. Poi abbiamo bisogno di pasticche. Quanti facciamo anche qua? Non lo so. Almeno 28 già che ci siamo, facciamo 30, eh? 30 pasticche. E poi ovviamente della Maria per un totale di 30 anche qua. Così siamo abbastanza, eh? Abbastanza potenti e facciamo veramente tanta, ma tanta roba. Dobbiamo salire ancora di livello? Dobbiamo riuscire a tirar su un po' di potenza, un po' di speed? Cosa cacchio serve? Cioè devo iniziare a separare le pasticche. Dai, prendi queste pasticche e prendi anche queste pasticche. Tac e tac. Subito, è iniziata la consegna. Poi, tu non vuoi della roba buona? Che bastardo che sei. Potevi volerla, invece non la vuoi. Là c'è uno sbirro, ma dobbiamo entrare... Fuck! Smetti di guardarmi, banana che non sei altro. Ok, non mi sta guardando. Scavalchiamo e andiamo così di corsa qua dentro. Questa è la baraccopoli. Per qualche motivo ci siamo espansi nella baraccopoli e a 30 metri a questa parte sembra esserci qualcuno. La signorina esce dal camper, non ha molto, ma è wewey sessuola. E sessuola? Non possiamo dirle niente. Eccola qua, due grammi anche per lei, signorina. Ok, devo andare a fornire prima i miei tizi. Qui invece sono qua. Nate Bong, mi serve il Nate Bong. Si esce da questa parte. Noto con estrema virilità che esiste un piccolo magazzino nel quartiere del supermercato. Questa è la possibilità per espanderci dall'altra parte senza fare troppa, come dire, confusione, fatica, problematica. A portare roba da una parte all'altra. È una occasion da non perdere. E quindi dobbiamo capire come mettere del danaro. Siamo a 456, fino a 1100 dobbiamo metterci del danaro sotto al conto. Ovviamente non vogliamo che venga visto. Quindi chiamiamo Gerardo. Richiedi un incontro. Facciamo un ciccinini di affare, boss. Ho bisogno che facciamo un ciccinini di affare. Sono per strada. Ok, dove ci troviamo però? Perché i miei clienti, insomma, hanno abbastanza voglia. L'incontro con Gerardo si fa. È stato confermato. Ok, mi ha chiamato prima, mi ha detto Mike, vengo e facciamo il riciclaggio di quella roba. Si parla sempre così tra noi esperti di questa roba. E quella roba è quell'altra roba. Sempre roba è, capito? Poi a volte dice, ma tu c'hai roba? Ma io ti ho portato questa roba. No, ma devi portarmi quell'altra roba. Ma porca miseria, ho sbagliato roba. E viene fuori un sacco di confusione in quest'ambito lavorativo, signori. Non ve lo consiglio assolutamente. Però quello che vi consiglio è di vedere altre serie prepotenti qua sul canale se vi piacciono. Tra cui Snowhanner, Bannerlord, dove appunto il protagonista è proprio Gerardo. Gerardo non il tizio che ricicla Danaro. Gerardo quello che tira mazzolata in testa con l'ascia. Ok, per capirci era utile capirci. Mettiamoci Danaro in tasca. Numero di gocce. Voglio 400 gocce in tasca, ok? 400 gocce e non di più. Ma come cacchio faccio ad andare io con le gocce in tasca, raga? Cioè, che storia è? Fatemi lasciare giù un po' di ecstasis. La mettiamo qua. La mettiamo qua. No, mettila tutta là. Perfetto. Così ci facciamo spazio nelle tasche. Perché abbiamo migliorato le tasche, ma non sono abbastanza migliorate. Quindi abbiamo 800 euro, 800 euro e ci portiamo anche la polvere di peps con noi. Vorrei portarne di più, ma come fanno? Che tasca è che non riescono a tenere qua più di 400 euro? Le mie tasche sono piene di... Anche in questo momento ho tipo 800.000 euro nelle tasche, ok? Come questo video che avrà sicuramente 10.000 like per un altro episodio, ovviamente. E quindi, cosa facciamo noi? I contanti, perché non sappiamo contare, li lasciamo qua dentro. Sì, tutti, bello. Possiamo aggiungere... Vediamo, possiamo prenderne 6 invece di 4. Grande polvere di peps! Madonnina questa polvere di peps! E quindi, per non sapere leggere di scrivere sempre nell'armadietto, ci lasciamo anche lo zaino. Zainetto easy peasy. Fuck! Adesso ti sei svegliato a darmi la roba, ok? Come dicevo, cambio piani. Andiamo a prendere la roba, la robas. Siamo ritornati a casa, come per magia, e abbiamo ovviamente tanta roba. Va veramente tanta roba. E però, lasciamo lo zaino qua, ok? Lasciamo lo zaino là, perché andiamo a fare, ovviamente, una cosa special. Andiamo a vedere ovviamente quello che è il secondo ingresso, che probabilmente mi avete già scritto nei commenti, conoscendovi, piccole banane. E quindi, nessun problema. Allora, abbiamo solo della polvere di peps, che magari non è bello farsi beccare con la polvere di peps dalla polizia. Quindi, su questa stradina qua, dove c'è dietro al supermercato, per intenderci e capirci, c'è questo chiusino fognario, che noi prendiamo e ci ritroviamo dall'altra parte. Siamo adesso, vicino al centro. Da sbloccare il centro, non possiamo sbloccare, non possiamo fare niente di particolare. La polistation è lì, ottimo. Dobbiamo incontrare quel tizio, va proprio quel tizio lì, guarda te. Che caso. E basta. Abbiamo trovato due metodi, quindi, per attraversare. Però anche di queste fogne, come ben sapete, non si possono usare con lo zaino dietro. Quindi, dobbiamo migliorare le nostre tasche. Ciao Gerardo, eri più bianco l'ultima volta che ti ho visto, bello. Ok. Quanto voglio? Tutto al denaro. Voglio la farlo tutto. Ok. Maciulato, 100, 800 dollari. Buona. Perché io mi aspetto che comunque vengano i miei signori, tizi. Ehi, ciao bello, non vuoi dare roba. Voglio che, aspetta che vengano i miei spacciaccini, i spadaccini. E loro mi portino, capito? Mi portino roba? Qua si può entrare, c'è un bar. Ma c'è anche una Ferrari abbandonata. Sembra venuta fuori da SnowRunner, ragazzi. Cioè, ma che è? Ci hanno fatto i giri in Russia. È stato Pino, se è stato... Cioè, veramente. Non si può vedere una roba del genere. Neanche il tempo di tornare indietro nel nostro, ovviamente, bellissimo e accogliente covo. Che abbiamo, ovviamente, dei nuovi ordini. Vogliono ben 29 grammi di anfetamina, signori. E ci siamo ripresi lo zaino. Di conseguenza, qua, dovrei avere dei pacchi. Ok? Dei pacchi. Eccoli qua. Tac. Di anfeta. Abbiamo anche 20 grammi di ecstasy. Maria e robe varie. Ma nel fratello, per lo sapereggere e scrivere, mettiamo tutto là e iniziamo a produrre virilmente. Per renderci la vita più complicata, ovviamente, potremmo sbloccare la met. Ok? Metanfetamine. Sbirroni e baracopoli sono messe abbastanza male. Dobbiamo andare, adesso, di giorno, a fare un po'... Cioè, vuoi erba? Ti do l'erba. L'erba. Questa vuole ancora ganja. Due grammi. Anfe. Sì. Quella ce l'ho. Anfe ancora. Ok. Adesso, non sapete neanche scrivere. Siamo praticamente pronti. Ancora roba vogliono. Madonnina santa. Ok. Posso incontrarti e dati i tuoi soldi. Dammi i soldi perché sono ovviamente a zero. E andiamo a consegnare tutto. Esco. Maria esco. Esco due. Esco due volte. Andiamo subito a fare tutto questo grande business. E poi torniamo avanti per continuare. Madonnina quanta gente che c'è. Madonnina quanta gente che c'è. Andiamo da Seba, che è da qua, da questa parte. Dovrebbe essere giusto qua in fondo a destra. E niente. Ah, niente. Ogni due per tre mi stanno cercando. Madonnina. Adesso arrivo signori. Arrivo a distribuire la potenza. Un attimo. Ciao Seba. C'hai i soldi. Dammi i danaro. 160 euro. Non ci fanno schifo. Ok. Non sono tanti. Ma non ci fanno schifo. Stanno per arrivare di nuovo le ore notturne. Police checkpoint. Sì. Scusami. Tranquillo. Magli in alto. Non mi muovo. Non ti avvicinare troppo però. Va bene che c'è la bocca che copera. Ma non ti avvicinare troppo. Ok. Tranquillo. Tranquillo. Posso andare. Posso andare. Sì che posso andare. Parca miseria che ce l'ho solo 700 dollari con me. Don't open bumps inside. Fuck. Ce l'ha scritto il supermercato. Ce l'ha scritto il supermercato. Io volevo il supermercato. Niente supermercato. Usiamo l'ATM. Sono venuto qua. Giusto per usare un cicchino. Quindi deposita del danaro. Quanto vuoi depositare? Sei pazzo. Devo depositare almeno 400 voglio depositarne. Ok. Depositiamo il danaro. Si può? Soldi presi. Bene. Mi rimango 300 euro in tasca. Quanti soldi abbiamo sul conto adesso? Perché siamo qua. Siamo esseri umani. civili. 1300. 1300. Una somma ottima. Quindi sì. Ancora. Ma quante volte mi devi controllare? Banana mi ha appena controllato. Sono passato in là. Sono sempre io. Non mi riconosci? Guardami bene in faccia. E quel tizio lì? E oh. Quel tizio lì passa così libero? Questo è razzismo. È razzismo. È razzismo contro quelli che hanno lo zainetto rosso. Fuck you police. Ok. Cioè non si può. Non si può. Non si può. Veramente. Non c'è più rispetto. A proposito di rispetto. Fammi andare a prendere un paio di bombolette. Che così posso grafignare le pareti per bene. Uh. Amarena Goblina è diventata dipendente dalla polvere di peps. Amazing. Vuole la polvere di peps. Grande. E siamo a due drogantelli. Il primo. Il primo. Beh non vi dico di che droga si è. Si è. Come dire. Di che. Di che materiale è abbastanza. Sua volontaria. Ma. Già che ci siamo. Come si è messi. Aspetta. Fammi andare più. Oh. Pagano di più. Ordinano extra. Ovviamente. Ovviamente. Peccato che noi. Adesso. Siamo entrati. Quindi. Tax. Arriviamo qua. Buona. Abbiamo un ciccin di roba. Andiamo a fare dei lavori. Abbiamo anche della Met. E quindi. La notte. Ci ha mica. 13 messaggi. Perché. Posso sbloccare il quartiere del supermercato. E anche il centro. Grandissimo. Il centro. Baracopoli. Tanfia. Città vecchia. Paolo. Ciao bello. Ehi. Vuole lavorare per me. Vai. Vai Paolo. Si è diventato. Paolo è quello con una faccia strana. Signore. Anfetta. Dai baby. Solo per te. Ma perché sto accettando gli ordini? Ok. Incontriamoci per riscuotere. Ok. Da paura. Bene. Ok. Livello 13. Estrema violenza. Che c'è? Eddie. Che c'è? Quella farmacia in centro sembra averli aperto. o qualcosa. Magari vuoi controllare. Che c'è? Che c'è? Grande. Molto bene. Molto bene. Si vado ad annocchiata. Però credo di aver bisogno di un tavolino o qualcosa per lavorare con nuova attrezzatura. Ci abbiamo spazio qua. Quindi per non sapere leggere e iscrivere vogliamo affittare questo spazio signori. Dai prendiamoci. Rimano 36 euro sul conto. Adesso dovremmo avere degli ingressi nuovi. Ma abbiamo una base nella nuova zona. Ok. Cioè è veramente potente quella nuova zona. Veramente. Siamo arrivati. Nascosti. Al buio. Come Batman. Aspetta. Aspetta. Fammi colorare sto muro prima. Ok. E poi entriamo là dentro. Non ho troppi danari. Perché ho troppa roba. Capito? Che non è venduta. La notte è giovine mi hanno detto. Ciao Jamie. Madonnina sa ma chi sei? Harry Potter. Madonnina. Avrei. Mostrami la tua parecchiatura da laboratorio. Va. Ah ma barattolo medio. Barattolo piccolo. Essicatore di sostanza. Vassoio. Maccina caffè. Porca miseria quanta roba che c'è qua. Ma ma qua mi servono altri mille dollari. Praticamente per fare qualunque roba. Allora per questa parecchia di scrivere. Potremmo prendere un mortaio. Ma non ho abbastanza danaro sul conto. C'è la polizia qua fuori. Avrei bisogno delle medicine. Se non ti dispiace. Tipo. Dammi del. Del viagra boy. Polizia. Polizia. C'è della maledetta. Polizia. Cazzo c'è la polizia anche là. Madonnina. Mi stanno inseguendo di Firelands. Questi corrono veloci come Usain Bolt. Cos'è sta roba. Porca miseria. Eh cazzo. Ce la fai a saltare un muretto. Ok. Benvenuti nella nostra nuova nascondiglia. Signora lì. Ok. Nascondiglia. Umile. Piccola. Almeno c'è il parquet. Mettiamo la cosa. Almeno c'è il parquet. Non c'abbiamo altro. Non c'abbiamo il letto. Non c'abbiamo niente. Ma abbiamo il parquet. Quindi. Salva la partita. Porca miseria. Ore di polizia. Caos. Casino. Sette punti di abilità. Mi sa che a sto punto mi conviene veramente aumentare la velocità o stamina. Ok. Mettiamo la velocità. Sono qua fuori. Non muoversi. Madonnina. Che ansia. Che ansia. Devo tornare in un'altra casa però. Per iniziare a fare delle ricette nuove. Molto più potenti. Prendiamo ovviamente il Viagras. E lo aggiungiamo qua. 15 grammi. E facciamoci ovviamente un lavoretto di macinatura. 200 dollari ci costa il macchinario più avanzato. Magari lo vedremo nei prossimi episodi. Dipende tanto da quante views e quante vi piace otteniamo per questa serie. Mi aspetto almeno mille mille mi piace. E quindi si vedrà ovviamente se va avanti o meno. In base alla vostra potenza. Per ovviamente mantenerci sulla stessa linea di prima. Visto che stiamo facendo l'anfetamina lì così tranquilla. Dobbiamo avere una regola molto più più expert. E allora per lo sapere di scrivere prendiamo un po' di anfeta. E adesso creiamo una nuova una nuova sostanza. Aggiungiamola lì. 20 grammi. Perfetto. Dove lo zucchero? Lo zucchero lo giù. Ecco la. Lo zucchero permette di aggiungere. Di mandare giù la sostanza in maniera molto più efficace. Quindi mettiamo 3 grammi. Quindi ok. Anfet. Zucchero. E ultima mano l'ultimo. Prendiamo un ciclone di Viagra. Signori. Molto bene. Così invece di avere altri effetti. Facciamo molto. Madonnino sotto. Quanto a me che mi serve di Viagra? 2 grammi. Ok. Ho la ricetta qua sotto mano. Ricetta scritta dai creatori di queste cose. Himselves. Come diciamo noi in Veneto. Quindi dettagli del mix. Eccolo la. Anfet. Granz. Madonnino. Ok. Perfetto. Quindi confeziona questo prodotto. Dobbiamo prima mescolarlo. Ok. Hai ragione. E questa è la polvere di francese signori. Diamogli subito una potenza maggiore. La polvere di francese dovrebbe dare grazie al Viagra la suefazione che stiamo cercando. Nessuno se l'aveva mai aspettato. Incredibile. Nemmeno io. Allora confezioniamo questa bellezza. E prepariamoci a venderla sulle strade. Come mai prima. Siamo pronti allora. Pronti per andare a portare un po' di felicità. Un'altra volta in giro per il mondo. Abbiamo anche ammazzato. Si è ammazzato. Alzato i prezzi. Quindi 16 grammi di met. Ci penso io. Vediamo se riesco a darteli. Anfe. Vai. Cosa desideri. Cos'è che lo vuole? A tanfia. State attenti a dove prendiamo adesso gli ordini. Perché io non riesco a stare attento. Due torri. Va bene. Sbirronia e tanfia. Sono la nostra priorità in questo momento. Quindi. Madonnina santa. Nate. T'ho portato una roba. Esplosiva. Esplosiva. Due per otto fa esattamente 16. Quindi vai con la polvere. Come droga sbagliata. Ah vuoi la met. Madonnina scusami. Scusami. Allora tu vuoi esattamente. Sette per due. Quattordici più un e due. Così. Perfetto. Scusami. Ho sbagliato io. Volevi la met. La met. La produciamo da poco. Mi sono sbagliato. Ok. Anfetta. Metta anfetta. Madonnina santa. Quanta roba che c'ho. Devo fare presto che. E mattino tra un attimo. E prima del sorgere del sole. Siamo ritornati ancora. Nella nostra umile. E umidiccia. E schifosissima dimora. E quindi. Direi che. Adesso siamo tornati in business. 703. Dolaronzi. E dobbiamo farne ancora. Abbiamo ancora un sacco di roba. E smettilo di vendere l'ecstasy. Perché è poco profitevole. Non si può modificare. Non si possono creare drogati. Abbiamo dato un po' di polvere di francea in giro. Adesso aspettiamo di vedere. Se fa effetto o meno. Dovrebbe forse creare qualche nuovo tizio. Che a suo effetto. E mette like ai video. Speriamo di sì. Ma nel frattempo. Io sono Mike SenzaNome. Vi ringrazio per la compagnia. Ci vediamo prossimamente. Ciao.